Ogni mese su Infinity, nuovi film e nuove serie alimentano la tua passione. Ad agosto, insieme a migliaia di altri titoli, arrivano... Vedrai che ti piacerà. Che cosa? Il mondo. Benvenuto a Ferri Intervoli. Sì! Voi tutti invitati a mia festa inaugurante casa? Non siete sposati? Sì! Credo, continuate. Mick! La cura medica dell'anima. Perché sono nudo dalla cintola in giù? Non ti muovere. Infinity Agosto. Nuove emozioni senza fine. Non ti muovere. Non ti muove. Non ti muovere. Non ti muovere. Voi inutile, non ti muovere. Ti muovere.